Per quanto riguarda la partita, loro avevano il pareggio e la vittoria, quindi per come è stata impostata la partita noi ci siamo un po' aperti perché comunque il pareggio a noi non bastava e quindi il fatto di aver iniziato con un baricentro molto alto, aperto degli spazi che poi nella prima occasione da gol in Palermo ha trovato questo rigore, generoso no, adesso non lo so, non l'ho rivisto, mi dicono che è generoso, però ormai è andato, in questo non possiamo fare niente, però è proprio un discorso che noi dovevamo vincere per forza, non credo che sia un discorso di essere stati contratti, forse sì la pressione della partita, ma poi dopo 5 minuti è andata via e è stato proprio un discorso di spazi aperti perché noi dovevamo vincere per forza e quindi la partita è stata impostata in questa venera, però sono d'accordo quando dici che usciamo a testa alta perché abbiamo fatto un'ottima partita secondo me, meritavamo qualcosa in più, non è stato così, lo prendiamo e torniamo a casa.